Bene, noi torniamo a Roma a rallegrare almeno uno dei nostri sensi, ossia la vista con queste immagini splendide di Cibi Lucani in mostra appunto a Roma. Quindi linea di nuova Luigi di Laura. Riprendiamo la linea dal Parco della Musica di Roma, sempre in compagnia di Federico Valicenti. Allora Federico, dicevamo in apertura di trasmissione, qui è rappresentata un po' tutta l'Italia. Possiamo dire però l'Italia delle eccellenze a tavola? Soprattutto delle eccellenze, noi abbiamo stretto dei rapporti anche con Coldiretti per il chilometro zero, abbiamo stretto rapporti con gli allevatori di animali, stiamo stringendo rapporti con tutti per i formaggi, per i salumi. Le eccellenze italiane saranno qui a raid tutti i giorni e da qui partiremo per questa grande esperienza, anche perché Roma sta cambiando, ha bisogno di altre, come dire, versitalità in cucina. Noi siamo qui apposta. In questi anni tu ci hai abituato a leggere la cucina lucana in modo diverso. Tra queste eccellenze ci sono dei prodotti che già ti hanno colpito e che stai già proponendo? Beh sì, sicuramente ci sono i prodotti del Piemonte, ma soprattutto i prodotti del Lazio, c'è il Cavolfiore di Albano Laziale, ci sono tantissimi altri prodotti che noi stiamo cercando di portare in auge. Immagini che le ricette, oltre al cacio e pepe classico, la carbonara, stiamo cercando di riprendere un po' la vecchia arzilla con il Cavolfiore, piatti antichi. Noi qui poi proponeremo una cosa molto particolare. Col tempo andremo a creare l'archeogastronomia, proporremo dei piatti di apicio, di varrone, di colummella, legati un po' al wine bar, con i salumi, con i formaggi, con le pizze classiche e con la cucina antica, quella che poi ci lega, è il nostro mondo della ciposofia. Anche se poi il cuore di Federico Valicenti ovviamente rimane nel Parco del Porlino, a Terranova. È tutto per questa mattina, buona giornata.